L'undi 10 Iniziano gli esami? Iniziano i corsi estivi Buongiorno 14 agosto, tra 4 giorni, va bene Ok Minchia, due note di intelligenzia Buono Questi sono giorni che non mi dispiace svolgere Se ogni giorno sono due note Bene Approvo No Oh, mi dispiace Brunello Robertetti Non lo posso tollerare Meccoledì Oh, ancora non arriviamo al 5 Giovedì 5 5 Dio Giorno dell'esame C'è del controllo Del CK Della TAC Ste babbucce Giorno Beh Eh, siamo indietrino Darkton Abbiamo dato priorità ad altro Oh, allora È un po' inquietante la stanza Michele No problem No 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 niente ahah ok Ma non sono solo quattro? Dio! Perché ci vuole così tanto per maxare i talenti Soprattutto sapere? Potevano essere più semplici? Ho capito Però non è facilissimo cercare di fare tutto Alla prima run E vabbè però comu Vabbè Grazie comunque Dice Eh ma se no Riuscite a fare tutto con troppa facilità Che senso avrebbe? Però appunto è difficile fare tutta la prima run Almeno se sarà possibile Che non torni al dormi Cosa c'è? Quanto l'ha durato un po'? Oh Gaudagno un po' di tempo That's a new one Ciao Abaddon Ti darò una mano Jesus with a gun Posso usarlo? Posso usare Jesus with a gun? No ok No ok Dico difesa per visione diminuiti Persona Ah certo Senza di cosa non posso esaminarlo Senza di cosa non posso esaminarlo Senza Yukari non posso esaminarlo E la madonna E la madonna Sì fuca Oggi ho aperto un box di magic di Assassin's Creed Dopo qualche giorno fa Peso lo starter kit Posso dire che sto iniziando a chiusare me con magic Ops Che figo Che figo Che è Adam È un evocatore quello Che figo Che é Angelnic Che figo Che figo Che figo Per chi ha seguito il playthrough di Persona 3 Quindi torno indietro Con Mitsuru sulla sua moto Con me seduto dietro Come dovrebbe essere Sabato Capito A parte che decido io quando andiamo nel tartaro 5 E' arrivato il pacco Ma ci sarà un festival di stile Oh il Matsuri Possiamo uscire con Koromaru Mutazzo Sabato Mutazzo Eh i social link hanno la priorità Gabbo Matt He 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 You're late You're coming here alone Uh you alright kid No May night My school kids Don't have much money Do they At least I never get Non si fa anche il DLC appena esce? Appena esce no Dopo Più in là Il cane non No non è un social link Coromaru Comunque gli psicopatici Li cerco solo nei videogiochi Nella vita reale Trovo solo ragazzi Che amano divertirsi Ma sono sano Beata te No Rank 6? No, rank 5 Metà strada Oggi è domenica Quindi Sun Se abbiamo un personaggio del Sun Arcana Che c'è? Chi è? Pi, 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 chi è? Yuko, Ciro She slide Into my DMs Se possibile Oh, tutte che mi chiedono Tutte mi chiedono Tutte mi vogliono Donne ragazze Con chi dovrei andare al festival? Dovete creare vita e andare per conto mio? Ripensaci Ma è con Mitsuru Ci diamo la mano? Ah, ok Tipo Tipo Alisa Oh no È la signora degli economie Che se ne fotte Se le bimbe piangono Di fronte a lei Che soffre Mitsuru con la coda raccolta è top Eh, sì Ma Aegis ce l'ha un apparato digerente O un qualcosa di simile O finisce come in WandaVision Che gli si blocca negli ingranaggi No, eh, no Mitsuru Non vale così Sono delle girelle Hanno le maschere Che soffre Che soffre Wearing a different I look forward Scusate Intanto mi parte Mi partono le minchiate così Scava a fondo Scava a fondo o pesca in alto? Scusate Eghis e Mitsuru sono vestiti carini con lo yucat E noi andiamo in giro come un barbone E purtroppo chiara in Giappone molto spesso sono solo le ragazze che si mettono in yucata I ragazzi è raro che invece si vestano tradizionalmente Un'altra bambola a Jack Frost Ma guarda E' truccato E Yusuke lo fa perché è gay o europeo Esatto Ricordiamo che Yusuke è gay e europeo Grandi affari Tanaka del lunedì? Carta maledetta Palla e vanesce Ah le palle no grazie Non c'è bisogno di commentare Mizzone in yucata Lei è bellissima Sempre Ma di tutti i personaggi che abbiamo visto in yucata nei vari persona Credo comunque O eno makoto Rimangano le più Quelle che risultavano meglio Non lo so Perché c'è molto anche da capire sui colori e la fantasia dello yucata che fa tanto Oggi le Eh Ah raga Come c'è di vuoto dai Bimbo Sì prendi pure Pascio orecchie da gatto Ok mi serve il primo otaku del cazzo Ah no Abbiamo già finito Pensavo di doverle portare a un otaku Che mi piaceva tipo Gnan Che belle orecchie le posso avere Ti prego Immagine di Elisabeth Con le orecchie da gatto Il naso è un po' troppo Ma le orecchie ti stanno molto bene Elisabeth Che carina Turchese Nuova missione Ah possiamo uscire Eh ma l'offerta la devi fare Poi devi pregare gli spiriti Suonare la campana Fare la preghiera Battere le mani un'ultima volta Inchinarti C'è tutto Ci sono dei passaggi Da seguire Elisabeth Sono in Fortuntelling Oh Mikuji Sì guarda Io la prima volta che lo fece Elisabeth mi disse Great good fortune E non arrivò un cazzo di Great good fortune Quindi Quel bagno di fumo serve Per aumentare la conoscenza Quindi abbiamo detto a Ralph Di starci contare Tanto lui suona il basso Che cazzo gli serve What is this for This is for good luck Ah good luck Ralph come I destri ci fanno la fortuna I see In the presence of a true god If that is the case Fascinating In order to attain joy This playground equipment Teachers are profound No, qualcos'altro That was quite entertaining I would very much like For you to Could I ask That you I can't get out Oh dear It's rather difficult To maintain one's back The day was even more enjoyable Than our other To be honest Lately I've been What do I find This world enjoyable Or another possibility Perhaps I enjoy myself On these excursions Because of your company In any event I believe I'll have to negotiate With my master To install a horizontal bar I'd like That you do A company Ma volentieri Elizabeth One more One more Are you accepting a request? Wonderful Come to think of it Fascinating La bicarica Vediamo questi nuovi Equipag diamenti Agilità più 1 50 HP 20 SP Student in gamma Minus chance Di superi colpi critici Significa per il guerriero Chance Basta di Rigentri Rigentri Non è male A Kiko Agilità più 3 Agilità più 1 Facciamo risposta Eh Sparcaccioni La lenta La mia è cambiata Ma per prima cosa Come hai fatto Entrare così Nella gabby Allora Ciao Vexy Dove le richieste Ho fatto Il santuario Tutto bene Grazie Costume Costume Lime Ah Costume da bagno di fuca Farò Un po' eccessivo Un po' eccessivo Fuca Allora Nozomi Maiko Rank 9 Sì Così Chiudiamo Chiudiamo Andrei con la mamma Signora 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 E certo Perché noi uomini Dobbiamo essere Fai tu Ciasso Amici Per sempre Per sempre Mai 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 E poi mai Però Fatti regalare Delle Da tua madre Delle scarpe Che facciano Pandan Col vestito Rank 9 Ciao Damis Bye Have a great time Sera Ricordi D'armature Svestite Ma portate Di persona 3 portable Sesi Mitsuru E so che Hai capito Beh Abbiamo già Trovato Quella Di Di Coso Questa E' Ma è Stato Meglio Abbiamo Già Trovato Quella Di Cosa Di Di Yucari Non è Doggo Doggo Che carino Con telecomando Vuole vedere Un programma Non so Aspetta Vediamo se c'è qualcuno Con cui uscire No Va bene Sto con te Coromaru Tu M'hai creato Mammina E quindi A causa Tua Che provo Delcezio Amore Soltanto Sentire Il tuo Nome Ti Tendela Come un Bollito E calda Come un Pa Strano Ti Voglio Bene Mammina Bah Paccata 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 Un Documentario Su Un Branco Di Lupi Ma C'è Un Bau Bau Ora Siete Tutti Cani Bau Bau Ora Siete Tutti Infatti Bau Ora Siete Tutti Alberto Bada Bada Barilla Bada 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 Una nota Di conoscenza Al 5 Almeno Per favore No Bada Barilla Allora Koromaru Koromaru Autosucunda E Automasucunda Bellissimo Every enemy Starts with an agility Debuff That's not Fucking Bad Bad New carry Cosa Healing Master SP Cost Over Healing Spells Superfluo Kiko Buff Boost Ah Mi sa Che Paradossalmente Mitsur È quella Con Il boost Più Scarsa No Era una citazione Excel Saga Cernibolk Ah Vattene Gioventù Il mio episodio preferito Di Exal Saga Gonkichi Jun Junpei Cazzo vuole Junpei Junpei Yori Link Episode Ma io devo fare Un Bunchichi No Non ho letto il messaggio Scusa Sper Salve Ho bisogno di te Per i miei Geniali Pieni estivi Vado a Che Excel Saga Un anime Di 26 episodi Comico Delirante Uscito su MTV Tanti anni fa Come viene fatto Lo zucchero filato Non lo so Con precisione Frame Steak So che hai bisogno Di una macchina apposita Per poterlo fare Lo devo fare Il link episode Di Junpei Non ho niente Contro Junpei Che vorrei finire Bunchichi Facciamo il link episode Ma perdo tempo Di che parla Excel Saga Excel E Ayat Sono due Ragazze Che lavorano Per l'ACROS Nella città F Della prefettura F Del Giappone Lavorano per l'ACROS Ovvero Un'organizzazione segreta Per la conquista Del mondo Cappeggiata Da Il palazzo Ovvero Un individuo Dei capelli bianchi Doppiato da Luca Ward Per cui Excel e Ayat Di episodio in episodio Cercano di portare avanti Dei piani Strampalati Per la conquista Della città E poi Successivamente Del mondo Excel è una ragazza Super esagitata Piena di energie Innamorata follemente Del palazzo Ayat È una ragazza Che viene dallo spazio Che Muore Sta male Sempre Anemica Merda E Parla tutta così Perché E tossisce sangue E passiamo il tempo Con Junpei Ah la festa Per la spaccarlo Dall'anguria È uno dei più grandi Passatempi Dei giovani Giapponesi Durante l'estate Nazza di gagno Che pensiero Gentile Alla fine Dei link Episod Sblocchi Di persone Più potenti Dei loro Pseudo Arcani Cioè Loro Cioè Per loro O per me Perché per loro Tipo Di Junpei Non me ne frega niente Perché non lo schiero In squadra Se è per me Ok Per me Allora va bene C'è pure Colomaru Che buzzkill Che sai Ken E' una cosa Da bambini E io non sono Più Un bambino Smetti la Ken Che c'è ancora Il Lego In casa E non il Lego Quello bello Il duplo Quello per bimbi Dai Dai due Ai tre anni Dovresti unirti a noi Dopo che ho iniziato Per scena A livellare Sto avendo difficoltà A livellare Sbloccherò qualcosa Che mi aiuta Perché ci metto Davvero troppo tempo Considera che ho battuto La papessa Guarda Per difficoltà a livellare Non so esattamente A cosa ti riferisci Io non sto Farmando Chissà quanto In genere Tutte le shadow Che trovo su un piano Le spacco di botte E vado avanti Alcune le salto pure E non c'ho voglia E mi sembra di essere Abbastanza impari Con i livelli Credo Quindi non saprei Che dirti L'unico modo Che hai per livellare E farmare Che hai nei suoi Playmobil Io riparto sempre Dal piano 1 Che palle Evelyn Questo è vero Ha ragione Ken Perché Junpei Gioca Baseball No ma tranquillo Ho giocato Persona 3 Persona 4 Arena Quindi lo sapevo Questa non la sapevo No mi sono Una familiare Oh yeah Well It's not some big secret Or anything I used to play Tons of baseball Back in the day But that's old news now Now Wait Should we really be Hitting watermelons with this Hmm Nah Well Nah It's cool I don't think I'll be using As much From here Bah No Coromaru Hai reso triste Coromaru Junpei Sei contento? Bah Buona idea Usiamo Junpei Eh Um Anything Interessante Fine Someone say my name Vogliamo che Usi i pugni Tu devi percorrere la tua strada Kiko Ma la mia strada porta al Tartarus Da oggi il ring sarà il tuo unico Tartarus Io sono pugile Te la mangia tutta Kolomaru Sana da senza Rated E For everyone È in grandi qualità Ma non sta a noi riconoscerle Sta alla ragazza qui roberà il cuore Junpei Non ti preoccupare Vedo nel futuro Diciamo di sì Capavolta si è finita Seduto su due piedi qui con me Mi parlerei di Will Superfico di Bel Air Nessuna domanda Escici una massima di onesto spessore Oggi con Gabbo Condividevamo le pick up line Più stupide che ci fanno più ridere Al secondo posto Ehi Bella Ma per caso Hai antenati irlandesi Perché sei tutta patata Ma al primo posto Imbattibile Inarrivabile Da non usare mai È Ehi Ma da dove pisci che sei tutta fregna Eccoci qua Vero che è cringe Però Cioè Se la dici è cringe Ma se la Se 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 la dici tra amici Fa spaccare da ridere Cioè Dovete immaginarvi Gabbo Che lo dice a me Non che lo dice A una ragazza De nada Eh Maggiore fascino Ok Però meglio Come la direbbe Uno di Roma No Deve dirla Un 35enne Che ne dimostra 50 Un po' ubriaco Stortini Che fa Ma da dove pisci Che sei tutta fregna Ok Con un pelo di accento Bergamasco Ma da dove pisci Che sei tutta fregna L'ultima è cringissima Qualcuno Ma conosco qualcuno Che l'ha usata E ci ha rimorchiato Eh ma lì Ragazzi La prossima volta Che Delmo È in live Andategli a chiedergli Semplicemente Gian mi ha chiesto Di raccontarmi Della Pick up line Delle 4 atmosfere Ecco 4 atmosfere Fidatevi Bugo I cattoni Tanaka Ho paura Ma sono curioso Eh prossima volta Che Delmo In live Raga Why would you say that Perchè secondo lei Come tutti Crypto Bros Presidente Tanaka Come tutti Fuffa Guru Che dicono Che insegnano Il Sigma Mindset Come diventare milionari In un mese Se però Segui il loro corso Da 500 euro Perchè hai bisogno Di me i 500 euro Se sei miliardario Che cazzo te ne fai Perchè investi il tuo tempo Per insegnare ad altri Ad essere miliardario Se tu sei miliardario Cazzari Non ci cascate In ste minchiate raga Ve ne prego Tanaka maestro di Big Luca Guarda Sono talmente fuori dal mondo Che non so manco Chi cazzo è Big Luca Perchè 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 Grazie a tutti.